Calvare i cuori e i braccià per non restare in erbi, cavare invece il vincente, la vincente è la nostra idea. Calvare i cuori e i braccià, la chimica è l'azione, nessuna mediazione, ammigliere gli uccenti è la faunazione, a noi non graficarli con la demorazione. La salute i cuori, la salute i cuori. La salute i cuori, la salute i cuori. 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 La salute i cuori.